Grazie a Liberi TV per darmi l'opportunità di poter parlare del mio progetto di portare avanti le buone parole ovunque. Sono qui a Soveria Mannelli grazie all'amministrazione comunale che ha concesso i locali, alla Proloco e all'associazione Fiori di Lino che hanno sostenuto questo progetto e grazie all'organizzazione di Rossella Albertini e di Angela Leo abbiamo voluto portare anche qui l'amore per le buone parole. Dopo un corso tenuto con un bel gruppo di persone di belle anime sulla felicità ci apprestiamo a presentare il mio secondo romanzo di crescita personale che si intitola Don Passo da Noi. Grazie al quale sto riuscendo a portare avanti un messaggio molto bello che è quello di credere in se stessi attraverso un cammino interiore, spirituale e autentico. felicissima di portare avanti questa missione nella più assoluta semplicità potendo offrire alle persone degli strumenti davvero molto potenti per cambiare la propria energia e la propria qualità di vita. Grazie a tutti.